numero 5 con questa pietra refrattaria la pizza sarà cotta in pochi minuti grazie all'alta temperatura già dopo pochi minuti otterrai una pizza fatta in casa croccante leggera e gustosa la pietra refrattaria per pizza in cordierite mantiene a lungo le alte temperature e trasmette il calore in maniera costante e uniforme oltre alla vostra pizza preferita sulla pietra sarà possibile cucinare anche focacce e pane fresco utilizzabile anche su barbecue ottima idea regalo per gli amanti della buona pizza trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 con questa pietra refrattaria potrai preparare la pizza a casa tua come in pizzeria la pietra assorbe l'umidità cuocendo dal basso la tua pizza la pietra refrattaria è di forma quadrata ideale per cuocere la pizza ma non solo ottima per il pane fatto in casa per la cottura di focacce e panini la cottura su pietra conferisce una croccantezza speciale agli alimenti lievitati si consiglia la pulizia della pietra con un panno umido al primo utilizzo la pietra refrattaria non è lavabile in lavastoviglie puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 3 questa piastra refrattaria di forma rotonda è lo strumento ideale per cuocere nel forno di casa alla pizza con risultati paragonabili a quelli di forni professionali delle pizzerie la piastra in materiale refrattario trattiene il calore permettendo così di cuocere anche ad alte temperature la cottura su pietra conferisce una croccantezza speciale agli alimenti lievitati ideale per cuocere la pizza ma anche per il pane fatto in casa il prodotto va utilizzato con carta forno o farina per la pulizia basta utilizzare un panno umido trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 pietra refrattaria per pizza da forno ideale anche per la cottura di focaccia e pane nella confezione è presente una pala in bambù naturale una carta da forno riutilizzabile in teflon per evitare che la pietra si macchie ricette per un impasto leggero e croccante la pietra refrattaria è adatta a tutti i forni e barbecue la pietra è realizzata in cordierite e resiste ad alte temperature per la pulizia del prodotto basta usare un panno umido idea regalo per gli amanti della pizza se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 questo set professionale comprende una pietra refrattaria e una pala in alluminio con manico removibile ideale per forni e barbecue potrai preparare la pizza a casa tua come in pizzeria la pietra assorbe l'umidità cuocendo dal basso la tua pizza con questa pietra è possibile preparare anche il pane la pietra si scalda fino a 300 gradi per una cottura uniforme la pietra di pizza è in cordierite una pietra altamente porosa che assorbe l'umidità lo stesso materiale usato nei forni professionali ottimo prodotto in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon su amazon